JT9 With the end of destiny E' qui per presentare il suo ritorno alla Mav of Wrestling Attenzione Il 3 dicembre almeno San Bartolomeo Trema Perché The Prophet is here Ok ok Kenzo Richard Me la date di santa ragione Ma sapete cosa The Prophet Si sente di nuovo Rinato Riacceso dalla battaglia Grazie Kenzo E ora A te la scelta Pillola rossa O pillola blu Fall of The Way The Way I can Grazie.